Buona settimana gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, allora San Valentino, quindi auguri a tutti gli innamorati, questa è una cosa che bisogna fare sempre, ma auguri in particolare anche a Christian Eriksen, sì Christian Daneman Eriksen, campione d'Italia con l'Inter, compie 30 anni, proprio il giorno di San Valentino e come dico sempre per me Eriksen ha due compleanni, uno il 14 febbraio del 92, ossia 30 anni fa con l'anagrafico, l'altro il 12 giugno del 2021, perché Christian Eriksen ricordiamo è nato due volte e mai avrei creduto che Eriksen avrebbe trovato il coraggio di riprovarci, di tornare in campo in Premier con il Brentford e quindi sono particolarmente felice per lui, uno che amerò sempre, al quale sarò sempre affezionato anche perché, ripeto, mi fa molto piacere fargli gli auguri per questo suo trentesimo compleanno, gli auguro tante buone cose, per me, ripeto, il compleanno più importante è quando lui è rinato il 12 luglio del 2021, perché insomma sappiamo tutti che cosa gli è successo agli europei e ha trovato una forza incredibile per ricominciare e quindi sono solo contento per lui. Si è chiuso un weekend di campionato con, devo dire, i pronostici più o meno rispettati, perché il Milan ha battuto la San Dario, aveva il turno più facile, ora si trova temporaneamente al vertice della classifica, perché l'Inter deve sempre recuperare la partita con il Bologna e tra l'altro adesso vi do delle novità su questo, devo dire che poi non ci sono stati grandi sconvolgimenti, la Juventus la davano per vincente, doveva asfaltare l'Atalanta a Bergamo, l'Atalanta che ha sempre dei problemi in casa, invece poi ha recuperato, ha rischiato di perderla seriamente, questa partita l'ha recuperata proprio all'ultimo secondo. E così insomma diciamo che con i due pareggi tra Napoli-Inter e Atalanta-Juventus ne ha approfittato il Milan, ma il turno era ampiamente favorevole ai rossoneri e quindi diciamo che insomma tutte restano comunque in corsa per migliorare la propria classifica. Per quanto ci riguarda adesso la settimana di Inter-Liverpool, so che molti di voi sognano un Inter di Champions, io continuo a pensare che noi non siamo pronti per certi obiettivi quest'anno, magari lo saremo l'anno prossimo, quindi la mia raccomandazione insomma è giochiamo questa grande partita, cercando di divertirci, tenendo presente che una partita in 180 minuti, a patto, ripeto, da non poi inficiare o complicare ulteriormente quelli che sono i reali obiettivi, secondo me, dell'Inter, ossia ripetersi in campionato con lo scudetto della seconda stella e a questo punto se è possibile, visto che abbiamo l'occasione della rivincita dei due derby di Coppa Italia, arrivare anche in finale nel trofeo della co-carda tricolore. Questi sono i miei obiettivi ancora prima del Liverpool, però capisco che è la settimana del Liverpool e quindi, per carità di Dio, cerchiamo di rivedere se è possibile un Inter da Champions, anche se secondo me in Champions quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Quello che preoccupa più l'Inter, tiene più in apprezzione l'Inter in questo momento, è, devo dire, il discorso di Lautaro Martinez, eh sì, il Toro è di nuovo seduto, ormai non segna sua azione dal 17 dicembre scorso con la Salernitana, su rigore dal 12 gennaio scorso in Supercoppa. Contavo molto che si potesse sbloccare a Napoli, perché anche all'andata lui aveva vissuto tra ottobre e novembre un periodo del genere, aveva sbagliato il rigore nel primo derby, era un po' che non segnava e poi con il Napoli a San Siro era tornato a segnare e da lì era ripartito segnando 5 gol in sei partite. Stavolta Napoli non è ripartito, si ha fatto l'assist per Dzeko, ma ovviamente non può bastare per un giocatore che, parliamoci chiaro, è diventato come aspettative l'erede di Lukaku, perché la cosa più incredibile è che in questo momento sta andando meglio Dzeko di lui. Noi pensavamo che Dzeko avrebbe dovuto fare la spalla di Lautaro Martinez, invece ci accorgiamo che adesso Dzeko, che è il capocannoniere dell'Inter con 14 gol, è più Lautaro a fare la spalla a Dzeko, gli ha fatto l'assist che ha portato al pareggio a inizio ripresa con il Napoli, ma è chiaro che non può bastare per un giocatore che è oggi il più pagato dell'Inter, perché ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2026 e ora in molti dicono, poi ripeto io su Sanchez gli voglio un bene dell'anima ragazzi, però secondo me non è proprio la continuità, la sua dote più importante, lascio la decisione ad Inzaghi, molti chiedono Lautaro in panchina perché adesso non la becca mai, però attenzione poi anche ai riflessi psicologici, perché insomma metterlo in panchina all'inizio nella partita, se non più importante di quest'anno dell'Inter, certamente nella più prestigiosa e poi anche psicologicamente potrebbe ulteriormente abbatterlo, non è una decisione facile, non è una decisione facile, è una decisione che lascio volentieri a Inzaghi, certamente il Toro è seduto, è inutile che ci nascondiamo ragazzi e sapete perché adesso siamo un po' più in apprensione secondo me, perché forse ci stiamo rendendo conto che questo ruolo di nuovo Lukaku non fa per lui, cioè mi spiego, non è la prima volta che Lautaro gli ha avuti un po' in tutte le sue stagioni, in momenti in cui non era prolifico, non trovava la porta, sbagliava dei gol incredibili, però nelle ultime due stagioni c'è sempre stato Lukaku no? Lukaku 34 gol, voglio ricordare la sua prima stagione all'Inter, 30 gol nella seconda e Lukaku suppliva diciamo ai digiuni più o meno lunghi di Lautaro, cioè quando si presentava il Toro seduto. Ora è difficile insomma che Dzeko possa in questo fare il lavoro doppio, cioè il lavoro suo che già sta facendo in maniera incredibile e anche il lavoro di Lautaro, è per questo che Lautaro si deve svegliare, cioè il Toro si deve rialzare, perché ripeto un conto è avere Lukaku, che poi qua bisognerebbe sempre aprire il solito discorso in cui sono specialisti cugini di campagna, la sindrome del cornuto, perché ogni tanto ci sono degli interisti che mi tifano contro Lukaku, una roba che io detesto, perché uno che ha fatto una parte del percorso con te ti ha portato anche a vincere, ecco a questo io sarò sempre grato. Tra l'altro Lukaku che al di là delle sue difficoltà, indubbia il Chelsea perché anche lui ha abbassato la sua media, ecco ricordiamo che anche Lukaku è appena diventato campione del mondo per club col Chelsea, segnando tra l'altro due gol comunque decisivi nelle due partite più importanti, vabbè ma lasciamo perdere Lukaku perché Lukaku non c'è più e adesso dobbiamo per forza insomma sperare che in qualche modo Lautaro si sblocchi e si svegli. Vi dicevo della classifica, la classifica che non mi ha sorpreso, giornata favorevole ripeto ai rossoneri, Juventus che quindi resta lì lì con l'Atalanta, ma l'Atalanta una partita in meno e una partita in meno ce l'ha anche l'Inter, questa con il Bologna e tra l'altro dovrebbero arrivare oggi, nel momento in cui parlo non è ancora stata presa una decisione, ecco dovrebbe arrivare un altro risponso, potrebbe essere assegnato il 3 a 0 a tavolino all'Inter e il meno 1 al Bologna in classifica, cioè viene esaminato il ricorso dell'Inter che è stato fatto più che altro secondo me più per avere il 3 a 0 per prendere tempo e sarà così perché se volete la mia opinione questa partita comunque si rigiocherà, adesso poi se ci sarà il 3 a 0 tavolino il Bologna farà ricorso a sua volta, quindi ci vorranno 20 giorni per esaminare le carte e per avere poi la sentenza definitiva, la decisione definitiva che secondo me prevederà come è avvenuto in Juventus-Napoli l'anno fa e in altre circostanze, prevederà secondo me la ripetizione della partita. Va bene, adesso per qualche giorno ci concentriamo sulla Champions, l'importante è che la giochino liberi di testa, si divertano perché ripeto i miei obiettivi sono sempre scudetto e a questo punto visto che c'è il doppio derby semifinale di Coppa Italia e il toro seduto si deve alzare e questa è la cosa più importante, toro seduto alzati. Un saluto da Gianluca Rossi, a presto.